Siamo qui alla Conca, il nostro primo aperitivo letterario per la perdonanza di quest'anno, la 718esima edizione. Abbiamo come ospite Piero Badaloni che presenta il suo libro La memoria squilibrata, un libro che parla di Ninos Robados e di tutti coloro che hanno sofferto durante il franchismo. Perché loro? In qualche modo è un tema collegato anche alla perdonanza perché secondo una parte degli spagnoli, dell'opinione pubblica spagnola, questo squilibrio della storia, questo squilibrio della memoria è stato superato con il perdono 30 anni fa. Quando finito il franchismo ci fu una legge di amnistia che metteva tutti a tacere sui crimini commessi, con il piccolo particolare che in realtà ignorati furono soprattutto per 30 anni da quel momento, cioè dall'amnistia concessa nel 77, i crimini nascosti e i crimini ignorati furono proprio quelli dei franchisti, non gli altri. E si squilibrò la memoria, ecco da qui anche il titolo. C'è voluto una legge del governo Zapatero nel 2007 per tentare di riequilibrare quella memoria e cioè di ridare giustizia a coloro che ancora non l'avevano avuta. E cioè i tanti, tantissimi civili, si parla di 130.000 civili ammazzati senza alcuna colpa non solo durante la guerra civile ma dopo la guerra civile, quando ormai il regime si era instaurato e quindi era diventato uno Stato, avrebbe dovuto garantire la legalità. Ma la cosa più clamorosa è quella che è venuta fuori in questi ultimi anni e che lei ha accennato, cioè la questione dei nignos rubados, cioè questi bambini rubati dal regime ai genitori, colpevoli solo di opporsi a quel regime. E le cifre che stanno venendo fuori sono inquietanti, si parla di 35-40.000 bambini rubati ma sono cifre destinate ad aumentare mano a mano che si scopre sempre di più quel coperchio, da quella fossa che per tanti anni è stata tenuta accuratamente nascosta e coperta. Il valore della memoria, a partire naturalmente dalla storia del franchismo, dalla storia spagnola, ad arrivare a noi, un valore assoluto o relativo, quello della memoria? No, no, altro che relativo. Cioè molti lo vivono in chiave relativa. In realtà bisognerebbe arrivare ad una memoria condivisa, finché non ci si arriva non si può parlare di una democrazia compiuta. E una memoria condivisa significa anche, per esempio, non sconvolgere, non manipolare quello che è stato il dramma della storia vissuta dall'Europa intera, non solo dalla Spagna. Penso al dramma della Shoah, al dramma dell'Olocausto, ai milioni di ebrei ammazzati. Quello che è inquietante è che tanti giovani oggi, in tutta Europa e purtroppo anche in Italia, tendono a negare quel dramma, tendono ad una bestemmia storica, cioè a dimostrare o a illudersi di poter dimostrare che le camere a gas non sono mai esistite. Allora, come disse Primo Levi, quando il sopravvissuto uscì da allora, attenzione perché quando morirà l'ultimo sopravvissuto della Shoah, allora si scateneranno i revisionisti, si scateneranno i negazionisti. Purtroppo non c'è stato bisogno di aspettare che morisse l'ultimo sopravvissuto. Questo tentativo è già in corso e quello che mi amareggia molto è che a portarlo avanti siano soprattutto dei giovani. Ecco perché è importante recuperare questo valore della memoria storica per evitare che si ripetano quegli errori del passato. E in questo contesto la rimozione, che ruolo può avere? Una rimozione anche in questo caso colpevole o casuale purtroppo? No, magari in qualche caso può anche essere casuale, però una rimozione significa un voler dimenticare, un voler rimuovere dalla memoria le realtà scomode, le verità scomode. Anche qui mi viene spontaneo citare una frase di un'ebrea sopravvissuta alla quale era stato chiesto ma perché bisogna ricordare, cioè perché non si deve dimenticare? E la sua risposta è fulminante e la giro alla sua domanda. Non si deve dimenticare, bisogna ricordare, è dovere ricordare perché è la memoria che ci rende liberi. È quella memoria di quelle tragedie. Se noi la dimentichiamo, se noi la rimuoviamo, allora c'è il rischio che prossimamente nelle scuole nasca un nuovo Hitler, un nuovo Mussolini, un nuovo Franco e questo non è certo un bene per i ragazzi che stanno crescendo adesso. Quindi il valore di testimonianza anche di un lavoro giornalistico come quello che oggi lei presenta a noi perché comunque il taglio della sua scrittura naturalmente è molto fresco, molto veloce, è un reportage giornalistico eppure ha lo spessore di un lavoro storico. Io credo che il compito di un cronista è quello di raccontare ma bisogna anche farlo in maniera che tutti capiscano quello che tu racconti. La chiarezza del linguaggio è la maniera migliore per arrivare a raggiungere il tuo obiettivo che è poi quello di sensibilizzare attraverso la testimonianza. D'altronde vedo che molto spesso, sempre più spesso, i giornalisti si occupano di un altro tipo di memoria quella molto più recente, quella della cronaca nera, dei delitti, di cogne e da cogne in poi mentre invece sarebbe il caso di dedicare più energie, ma questo lo dico a chi svolge il mio compito, il mio mestiere e soprattutto a chi lo svolge nel servizio pubblico, cioè la RAI di dedicare un po' meno tempo a questi delitti al gossip politico e un po' più di tempo e di attenzione a questi temi. Quindi una ricostruzione storica della memoria per costruire il futuro? Ma certamente, anche perché il compito dei mezzi di comunicazione, soprattutto, ripeto, quelli che sono servizio pubblico è anche quello di formare le coscienze, di educare, non soltanto di intrattenere con nani e ballerina.